Cesena! 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 Tra cori altissonanti e fumogeni rossi è stata un'accoglienza da Serie A per il Cesena di Francesco Modesto alla serata di apertura di Bianconeri in festa, il tradizionale evento dei gruppi organizzati del tifo che inaugura la stagione agonistica ogni anno. Dopo la visita all'ippodromo di martedì a Case Castagnole alle 20, dal pullman sono scesi tutti i giocatori con al comando del serpentone il presidente Corrado Augusto Patrignani. Dopo il caloroso benvenuto la truppa Bianconeri raccenata allo stand gastronomico e si è intrattenuta con i tifosi per foto e autografi. Oltre alla tradizionale lotteria e giochi per bambini non è mancata nemmeno la musica dal vivo per una kermesse che terminerà sabato sera, vigilia dell'esordio in Serie C in casa del Carpi. E proprio questo è l'evento di punta con 466 biglietti venduti in due giorni di prevendita con una campagna abbonamenti salita a quota 6309 che ha come obiettivo quello di superare il dato dello scorso anno.